caro perugia voglio ringraziarti così fin dal primo momento che ho indossato questa maglia e questi colori ho sempre cercato di onorarli e con la vittoria dell'anno scorso lascerete sempre un segno importante nel mio cuore grazie a tutti i miei compagni tutto lo staff e i grandi tifosi che ci sono sempre stati in bocca al lupo grande grifo grazie di cuore con queste parole postate su instagram andrea bianchimano ha salutato perugia dopo l'ufficialità del suo passaggio alla viterbese dopo quella di sunas è arrivata quindi un'altra cessione e potrebbe non essere finita qua perché anche per murano la trattativa con l'avellino è in stato avanzato secondo alcune indiscrezioni la società del presidente angelo d'agostino avrebbe offerto 150 mila euro per il cartellino dell'attaccante con un bonus di altri 100 mila in caso di promozione dei lupi in serie b un'offerta che ricalca quasi in toto l'accordo che due anni fa il perugia mise sul tavolo del potenza per prelevare murano fatto sta che la trattativa potrebbe chiudersi già nelle prossime ore con la partenza di murano dovrà per forza di cose arrivare un nuovo attaccante a pian di massiano il ds gianniti ha le idee chiare e cercherà di portare in bianco rosso un giocatore giovane di prospettiva secondo quanto riportato dal messaggero tra i nomi monitorati dalla direttore ci sarebbe anche quello di vittore agostinelli trequartista classe 2002 che attualmente gioca nella primavera della fiorentina intanto la squadra continua gli allenamenti in vista della gara di sabato quando alcuni arriverà il pordenone alvini dovrebbe recuperare tutti gli acciaccati e anche per de luca c'è ottimismo dopo l'operazione al naso due essenze certe ed importanti le avrà invece il pordenone con pasa e pinato squalificati i due sono stati sempre titolari nelle ultime sei uscite nelle centrocampo dei ramarri e quindi il tecnico dei neroverdi tedini sarà costretto a rivoluzionare la mediana